Tutte le fortune a Memmo Viola. E se ne meritava davvero quel buon Memmone, che cacciava le mosche allo stesso modo con cui guardava la moglie, cioè con l'aria di dire «Ma perché vostinate, santo Dio, a molestarmi così? Non sapete già che non riuscirete mai a farmi stizzire. E dunque sciò, care, sciò!» Le mosche, la moglie, tutte le noie piccole e grandi della vita, le ingiustizie della sorte, le malignità degli uomini, le stesse sofferenze corporali, non avrebbero potuto mai alterare la sua stanca placidità né scuoterlo da quella specie di perpetuo letargo filosofico che gli stava nei grossi occhi verdastri e gli ansimava nel nasone, tra i peli dei baffi arruffati e quelli che gli uscivano a cespugli dalle narici. Perché Memmo Viola diceva di aver capito il gioco e quando uno ha capito il gioco invulnerabile al dolore, però impenetrabile anche alla gioia. E questo era un vero peccato, perché Memmo Viola era quel che suol dirsi un beniamino della fortuna. Forse però il gioco che gli diceva di aver capito era questo, che la fortuna lo favoriva tanto, appunto perché egli era così, appunto perché sapeva che egli non ne sarebbe mai corso dietro, neppure se essa gli avesse profferto, dopo due gambate, tutti i tesori del mondo e che non si sarebbe rallegrato, né punto né poco, neanche se fosse venuta da sé a portargli in casa. Tutti i tesori del mondo, no, ma ecco che un giorno gli aveva proprio portato in casa la grossa eredità di chissà qual vecchia zia, una vecchia zia sconosciuta morta in Germania, per cui aveva potuto rinunziare all'impiego che gli pesava tanto, sebbene, povero Memmo, come tutto il resto, da dieci anni lo sopportasse in santa pace. Poco tempo dopo, la moglie, stanca di vedersi guardata a quel modo e di non essere buona a farlo arrabbiare, per quanto gliene facesse sotto gli occhi di tutti i colori, gli aveva aperto, anzi spalancato la porta e lo aveva spinto fuori a vivere libero per conto suo in un quartierino da scapolo, a patto però che egli lasciasse libera anche lei allo stesso modo e con un congruo assegno debitamente assicurato. Sì, e quando mai Memmo Viola si era sognato di porre un limite o un freno alla libertà della moglie? Ma ella voleva così. Amen. E con tutti i libri di scienze fisiche e matematiche e di filosofia e tutte le stoviglie di cucina che rappresentavano le due più forti passioni della sua vita, era andato ad allogarsi in tre stanze modeste. Dopo aver dato allo spirito il nutrimento più gradito, attendeva a preparare da sé, con le sue mani, anche il più gradito nutrimento al suo corpo, cuoco dilettante e dilettante filosofo. Una vecchia serva veniva ogni tanto a fargli la spesa, gli apparecchiava la tavola, gli rigovernava la cucina, gli faceva il letto e la pulizia delle tre stanzette e se ne andava. Senonché, dopo appena due mesi di questa seconda fortuna, una mattina per tempissimo, che gli se ne stava ancora a letto a fare il sonnellino dell'oro, sua moglie venne a svegliarlo di sopra assalto nel suo quartierino con una furiosa scampanellata e investendolo come una bufera lo trascinò, afferrato per il petto, povero Memmo, così, in camicia come si trovava e con le bracche ancora in mano verso un angolo della camera, dietro un paraventino coperto di mussola rasata color rosa, dove si immaginò dovesse star nascosto il lavabo e versandogli lei stessa per non perdere tempo l'acqua nel catino lo costrinse a lavarsi e poi subito a vestirsi subito subito perché doveva uscire doveva correre precipitarsi in cerca di due amici ma perché? lavati, ti dico ecco, mi lavo ma perché? perché tu sei sfidato sfidato? io? chi mi ha sfidato? sfidato? non so bene o sei sfidato o devi sfidare non so di queste cose so che ho qua il biglietto di quel mascalzone lavati, vestiti, spicciati ma non mi star davanti con codestalia di mamma lucco intronato mammo viola venuto fuori dal paraventino con le mani bollicose di saponata guardava veramente la moglie se non come un mamma lucco certo come intronato non lo costernava tanto l'annunzio di quella sfida quanto la grave agitazione della moglie fuori di casa a quell'ora e in quel disordine d'abbigliamento abbi pazienza Cristina mia dimmi almeno mentre mi lavo che cosa è accaduto? che? gli gridò la moglie avventandogli si di nuovo addosso quasi con le mani in faccia sono stata vigliacamente sanguinosamente insultata a casa mia per causa tua perché sono rimasta sola senza difesa capisci? insultata oltraggiata mi hanno messo le mani addosso capisci? affrugarmi qua in petto capisci? perché hanno sospettato che io fossi non potesse guidare si coprì furiosamente il volto con le mani e ruppe in un pianto stridulo convulso d'onta di ribrezzo di rabbia ovvio fece memmo ma quando è stato? chi ha potuto osare? e allora la moglie prima tra i singhiozzi e storcendosi le mani poi di punto in punto rieccitandosi via più in rocchi la sera avanti mentre era a cena aveva sentito un gran fracasso alla porta grida risate scampanellate pugni pedate la serva a corsa era venuta a dirle che quattro signori mezzo ubriachi cercavano di una spagnola e di una certa pepita e che non se ne volevano andare e si erano buttati a sedere sconciamente nella saletta d'ingresso appena avevano veduto comprire lei erano saltati tutti e quattro addosso e chi pigliandola per il ganacino chi cengendole con un braccio la vita chi frugandole in petto l'avevano pregata scongiurata di conceder loro una visitina alla piccola pepita al suo divencolarsi alle sue grida ai suoi morsi avevano risposto con risa e gesti sguaiati finché a quel pandemonio non erano accorsi dai piani di sopra e di sotto tanti vicini di casa scuse chiarimenti sarà un equivoco mortificazione uno sarà fin anche incinocchiato ma ella non aveva voluto sentire nulla aveva preteso che le dessero conto e soddisfazione dell'oltraggio e tanto aveva insistito che alla fine uno dei quattro che forse era stato il meno insolente sarebbe dovuto costretto a lasciare il suo biglietto da visita eccolo qua a te prendi hai ancora in maniche di camicia che aspetti non ti muovi memmo viola aveva già bello e capito che quello non era né il caso né il momento di ragionare e senza neppur dare uno sguardo di sfuggita al nome stampato in quel biglietto da visita ritornò ritornò al lavabo dietro il paraventino che fai finisco di lavarmi a chi pensi di rivolgerti non andare dal venanzi sai gigi venanzi non accetta puoi star sicuro che non accetta perderai il tempo inutilmente permetti disse memmo che aveva già riacquistato tutta la sua placidità il tempo cara me lo fai perdere tu adesso lasciami lavare senza tirarmi a discutere non hai voluto saper d'equivoci scuse non hai voluto accettarne hai voluto il duello cioè farmi dare una sciabolata bene ti servo subito ma lascia ora che provveda io a garantire come meglio posso la mia pelle dici che gigi venanzi non accetterà e come lo sai la moglie un po' sconcertata alla domanda abbassò gli occhi lo 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 suppongo ah fece memmo asciugandosi la faccia lo supponi vedrai che accetterà vuoi che si tiri indietro per me giusto per me quando presta a tutti i suoi uffici cavallereschi non passa un mese per dio che non si trovi in mezzo a due o tre duelli padrino di professione ma sarebbe da ridere che direbbe la gente che lo sa tanto amico mio e tanto pratico di queste cose se ne rivolgessi ad altri la moglie brancicando la borsetta con le di terre quiete dopo essersi un tratto morsichiato il labbro scattò levandosi in piedi e io ti dico che non accetterà memmo scoprì tra lo sparato della camicia nell'infilarsela il faccione irridente e disse fissando acutamente la moglie me ne deve dire la ragione e non può dico non può averne via lasciami lasciami vestire vestito domandò con un certo risolino timido scusa hai visto per caso entrando se fuori della porta c'era il fiaschetto del latte aspettavo un nuovo prorompimento d'ira quella domanda e insaccò il capo nelle spalle e levò le mani in atto di parare zitta zitta vado corro e uscì insieme con la moglie per recarsi in casa di Gigi Venanzi lo trovò fortunatamente per ristrada a pochi passi dalla sua abitazione scorciendogli in viso un'improvvisa alterazione di rabbioso dispetto memmo viola comprese che l'amico era uscito così presto di casa perché si aspettava la sua visita gli si parò davanti sorridendo e gli disse cristina mi manda da te andiamo su la cosa è grave Gigi Venanzi gli piantò in faccia gli occhi torbidi e gli domandò che c'è oh non facciamo storie esclamò memmo ti leggo in faccia che lo sai dunque non mi far parlare sono sfinito casco a pezzi è venuta a svegliarmi come una furia nel meglio del sonno e non mi ha dato neanche il tempo di prendere un po' di latte e caffè appena risalito in casa Gigi Venanzi si voltò come un cane idrofobo a memmo e gli gridò ma lo sai chi è miglioriti memmo lo guardò balordamente miglioriti no che c'entra miglioriti e forse aspetta non l'ho neanche guardato ficcò due dita nel taschino del panciotto e ne trasse tutto gualcito il biglietto da visita che gli aveva dato la moglie ah già miglioriti disse leggendo Aldo miglioriti dei marchesi di San Filippo il nome non mi arriva nuovo chi è chi è ripete col sangue agli occhi Gigi Venanzi la prima lama tra i dilettanti di Roma ah sì fece memmo Viola tira bene di spada di spada e di sciabola mi fa piacere ma è pure un gran mascalzone va là quello che ha fatto e Gigi Venanzi gli saltò addosso quasi con la stessa furia con cui poc'anzi gli hanno saltata addosso la moglie ma si è domandato scusa ma se è stato un equivoco mammo Viola allora lo guardò ammiccando con la coda dell'occhio timido e furbo un tempo e domandò quasi fuor fuori c'eri il volto di Gigi Venanzi si scompose come in uno sbarrimento di vertigine come dove balbettò mammo Viola come se nulla fosse ritrasse sorridendo il suo amico dal precipizio a cui con quella lieve breve domanda sarà divertito a spingerlo e riprese ah già sì tu hai saputo era anche ubriaco mezzo ubriaco così ma che vuoi farci caro mio Cristina non vuole scuse tanto ha detto tanto ha fatto che lo ha costretto a lasciare il suo biglietto da vista in presenza di tanti testimoni ora bisogna che qualcuno lo raccolga questo biglietto il marito sono io e tocca a me ma da chi ci siamo oh eh Gigi bisogna fare le cose sul serio l'oltraggio è stato grave e i gravi devono essere le condizioni Gigi Venanzi lo guardò stordito poi in un nuovo impeto di rabbia gli gridò ma se tu non sai neanche tener la spada in mano alla pistola disse Memmo placidamente ma che pistola è d'Egitto si scrollò Gigi Venanzi quello imbrocca un soldo incastrato in un albero a venti passi di distanza ah sì ripete Memmo e allora prima alla pistola e poi alla spada me vedrai che non mi imbrocca di certo Gigi Venanzi si mise ad andare su e giù su e giù per la stanza poi facendo animo risoluto senti Memmo io non posso accettare che fece subito Memmo afferrandogli un braccio non facciamo scherzi Gigi e non perdiamo tempo tu non puoi tirarti indietro come non posso tirarmi indietro io tu farai la tua parte come io faccio la mia pensa al secondo testimonio e sbrigati ma vuoi che ti porti al macello gli gridò Gigi Venanzi al colmo dell'esasperazione oh sorrise Memmo non esageriamo dal resto caro mio tutte sciocchezze inutile parlarne Cristina vuole lavato l'oltrazzo e non se ne esce perderei la libertà e invece con questa occasione io me la voglio guadagnare intera vedrai che ci riuscirò va va pensa a tutto tu che te ne intendi io ti aspetto a casa sto leggendo un bel libro sai sui massimi problemi tu non ci hai mai pensato ma il problema dell'oltretomba è formidabile Gigi no scusa scusa perché senti questo l'essere caro mio per uscire dalla sua astrazione e determinarsi ha bisogno dell'accadere e che vuol dire questo dammi una sigaretta vuol dire che grazie vuol dire che l'accadere poiché l'essere è eterno sarà eterno anch'esso ora un accadere eterno cioè senza fine vuol dire anche senza un fine capisci un accadere che non conclude dunque che non può concludere e che non concluderà mai nulla è una bella consolazione dammi un fermifero di dolori tutte le fatiche tutte le lotte le imprese le scoperte le invenzioni sai disse Gigi Venanzi che non avevo udito nulla di tutta questa tiritera forse Nino Spiga ma sì Nino Spiga o un altro prendi chi ti pare gli rispose Memmo e per il medico scegli tu caro di tua fiducia oh se hai bisogno e accennò di prendere il portafogli Gigi Venanzi gli arrestò la mano poi poi perché ho sentito dire concluse Memmo che per farsi bucare con tutte le regole cavalleresche ci vogliono dei bei quattrini basta poi mi farai il conto addio eh mi trovi in casa la trovo in casa di fatti Gigi Venanzi quella sera ma sotto un aspetto che non si sarebbe mai immaginato Memmo Viola litigava con la vecchia serva a cui mancavano tre soldi nel conto della spesa e le diceva cara mia se tu mi metti nel conto rubati otto soldi o soldi dieci io tiro pacificamente la somma e non ne parlo più ma questi tre soldi così non te li abbono vorrei sapere che gusto ci provi tentare di pigliare in giro uno come me che ho capito così bene il gioco parlo bene Gigi costernatissimo esasperato stanco morto Gigi Venanzi stava a mirarlo con tanto d'occhi la calma di quell'uomo alla vigilia di battersi alla spada niente meno con Aldo Miglioriti era stupefacente il suo stupore crebbe quando enunciategli le condizioni gravissime del duello volute a imposte anche dal Miglioriti vide che quella calma non salterava per niente hai capito gli domandò eh fece Memmo come no domattina alle sette ho capito va benissimo io sarò qui bada alle sei e un quarto basterà avvertì Venanzi con l'automobile si farà presto ho preso per medico Nofri non andar tardi a letto e procura di dormire eh sta tranquillo disse Memmo dormirò e tenne la parola alle sei e un quarto quando venne Gigi Venanzi a bussare alla porta dormiva ancora profondissimamente Venanzi bussò due tre quattro volte alla fine Memmo Viola nelle stesse condizioni in cui la mattina avanti era andato ad aprire la moglie cioè in camicia e con le bracche in mano venne ad aprire all'amico Venanzi a quell'apparizione restò di sasso ancora così Memmo finse una grande meraviglia e perché gli domandò ma come vei Gigi Venanzi tu ti devi battere ci sono giù spiga e nofri che scherzo è questo scherzo? mi devo battere rispose placidissimamente Memmo Viola ma scherzerai tu caro io ti ho detto che a me tocca di far la parte mia e a te la tua sono il marito e ho sfidato ma quanto abattermi abbi pazienza non tocca più a me caro Gigi da un pezzo tocca a te siamo giusti Gigi Venanzi si sentì sprofondare la terra sotto i piedi seccare il sangue nelle vene vide giallo vide rosso afferrò Memmo per il petto gli scagliò gli sputò in faccia le ingiurie più sanguinose ma Memmo lo lasciò fare ridendo solo a un certo punto gli disse vada Gigi che non farai più in tempo se devi trovarti sul terreno alle sette ti conviene essere puntuale all'alto della scala poi raggendosi ancora le bracche con la mano gli augurò in bocca al lupo caro in bocca al lupo a un certo punto